Al Museo Archeologico di Olbia, culla del passato, la città è volata verso il futuro con il Festival dell'Aerospazio, il primo nell'isola, organizzato dall'Aztec. La Sardegna fa la voce grossa su innovazione tecnologica e settore aerospaziale. Nei due giorni di evento, oggi 11 e domani 12 maggio, è ovviamente saltata fuori la questione sulla candidatura di Sosenatos per ospitare l'Einstein Telescope. Il sito di Lula è in lotta con Olanda e Germania. Conferenze, ma al primo piano della struttura, anche simulatori e laboratori per scuole, per prendere confidenza con droni, rover e la tecnologia che viene usata direttamente nello spazio. Nelle conferenze presenti i relatori scientifici e vertici territoriali per fare il punto sul contributo dell'Italia all'esplorazione umana verso Marte. Poi tutto un filone sulla space economy territoriale, da Olbia per esempio si parla di applicazioni nella nautica. Invitato dall'ingegnere aerospaziale Marilisa Pischedda dell'Astec, domani il superospite è l'astronauta Paolo Nespoli, che incontrerà direttamente studenti e studentesse. Invitato dall'ingegnere aerospaziale